Buonasera Natale My name is Giovanni Giorgio I'm a beauty company Giorgio And this is my beauty Due ore di DJ set carico di adrenalina, ricco di emozioni che hanno fatto letteralmente esplodere gli appassionati di dance che hanno affollato la casa della musica di via Barbagallo In console, grazie a drop e nabili, il re della dance music Giorgio Moroder dà le casse le note dei suoi più grandi successi quelli che gli sono valsi premi internazionali e che hanno attraversato appassionando le diverse generazioni Moroder è uno dei personaggi più eclettici della scena internazionale vincitore dell'Accademia Awards come compositore, cantante, noto in tutto il mondo prolifico produttore, abile designer, filmmaker innovativo ciò che l'ha reso nota è la musica ha lavorato con molte star internazionali da Barbara Streisand, Elton John, Cher, Roger Daltrey, Janet Jackson Freddie Mercury, David Bowie, Pat Benata con le colonne sonore dei film Giorgio Moroder ha portato a casa 3 Academy Awards il primo arriva per la colonna sonora del potente film Midnight Express il secondo riconoscimento va alla hit di Irene Cara Flashdance tratta dall'omonimo film poi arriva il terzo Academy Award per la romantica Take My Breath Away del film Top Gun e non sorprende affatto che Moroder con le sue composizioni compaia nei film famosissimi The Never Ending Story American Gigolo Cat People Superman 3 Scarface ma anche Rambo 3 Beverly Hills Cop 2 Con la notizia